Allora, sono molto contento di avere Edoardo Purgatori, come stai Edoardo? Bene, grazie a te. Tutto a posto? Bene, tutto bene, tutto bene. Allora, ho allestito il salottino, quindi possiamo iniziare la chiacchierata. Tu devi sapere che poi alla fine siamo 5 minuti su Marlon Brando, che è una mia ossessione, quindi siamo a posto. Anzi, possiamo fare tipo 45 minuti a Marlon Brando. Esatto, una retrospettiva su Brando. Sempre, comunque. Senti, invece partiamo dal presente, tu sei coinvolto in alcuni progetti molto grossi, partiamo dal primo, che è proprio quello più imminente, che è il film che aspettiamo di arrivare da tre anni per il South, di Gabriella Minetti, che è il 28 ottobre. Allora, innanzitutto, io voglio sapere il set, com'era il set, dici qualcosa del set. Era cinema allo stato puro, cioè per un... Sergio Leoniano, come si diceva. Guarda, io ho avuto la fortuna di lavorare su qualche set americano, dove hai veramente 500-600 persone della troupe, su Ben Hur, Roma, cioè dove ti costruiscono dei set, delle cose giganti, e quello che io ho respirato sul set di Gabriella era il cinema allo stato puro, ma quello che ti emoziona, quello che io da bambino quando andavo al cinema vedevo, lui richiama molto Spielberg su tante cose, e si è visto quello, e devo dire, io sono così felice che ci sia un regista al momento in Italia, che fa questo tipo di cinema, perché poi anche rispetto a... lo chiamavano Gig Robo, che comunque è un film di genere che lui è riuscito a rilanciare, eccetera, con Freaks Out ha fatto proprio un salto... sì, poi c'è un investimento che è maggiore... certo, chiaro, però insomma è... io faccio, essendo mezzo tedesco, faccio un bel nazista di questi... mamma tedesca, esatto. quindi ti è toccato... mi è toccato fare i vestiti dei panni del nazista, quindi... ti pare anche il tedesco. sì, esatto, quindi insomma, senza andare a svelare, però ci sarà il rastrellamento degli ebrei, perché comunque la storia è ambientata in un contesto storico realmente accaduto, quindi il rastrellamento degli ebrei al ghetto di Roma, dove si ritrovano in mezzo diciamo gli eroi della storia, e io sono uno di quelli che poi insomma avrà a che fare con loro lì, questo vi dico... è toccato la storia di Aurora Giovinazzi... sì, esattamente, esattamente, esattamente... ma non è il solo asso nella manica di... è un bel momento... perché c'è pure, credo, partiamo dalla siccità di Paolo Verzi... partiamo, sì, partiamo da quello... la siccità di Paolo Verzi, chiuso... chiuso, finito, al montaggio, penso che lo stiano preparando... esatto, stanno in post, e niente, lì invece è un film corale, ambientato a Roma, ci sono vari film di storia, io faccio parte di una famiglia, diciamo, di costruttori barra proprietari di alberghi a Roma che hanno a che fare, perché il film siccità parla di una grande siccità che c'è a Roma, quindi... e loro hanno un albergo con le terme, quindi ti lascio immaginare e non si sa bene dove prendono quest'acqua, quindi tu hai tutto quello che diciamo che sono i meccanismi un po' più bui, brutti che ci sono, diciamo, a Roma rispetto a tutto quello che è il mondo delle famiglie di costruttori, alberghi, eccetera, insomma... esatto, abusi, eccetera, eccetera, edilizia e altro, quindi quello... E di Verzi? Eh, Verzi è un grande, figo... Ma sai cos'è la cosa bella, anche come con Gabriele, però con Verzi di più, nel senso che tu lì, quando hai un regista come Verzi, che scrive anche il suo film, lui ha una cura nelle battute, nelle... non so come dire... Ah, certo, ti sei... Ah, esatto, lui c'ha un'immagine proprio di come... Ma è libero? Sì, beh, nel senso, cioè, devi saperlo fare, cioè, chi ti lascia più libri di tutti è Ospetek, Ospetek è proprio uno che ti mette invece nel contesto... In campo... Esatto, cioè le battute ti cambiano così tante volte che praticamente non servono più a niente, però quello che Ospetek fa, che è figo, adesso stiamo saltando un po', però vabbè, ti crea il contesto, quindi che ne so, le famose scene dei pranzi, tipo nelle fate ignoranti, eccetera, lui prende, va all'Andreotti, che è un famoso bar di Roma che sta a Ostianza dove lui prende le cose da sempre, ti dà, ti apparecchia la tavola e ti dice vai, mangia, però devi mangiare, quindi... Con la camera che vuole proprio questa sporcatura, questa cosa, insomma, è diverso, però è bello per un attore, insomma, perché non hai il problema di dire ok, ho detto quella battuta, sto mangiando, fumando quella cosa, mentre ti lascia totalmente libero e ti ritrovi con con due macchine, di solito, e che praticamente sei, vivi la scena, non stai lì a pensare altro. A un certo punto ti menti, quindi, ma in E, Irzi, è anticipato Ospetek, che è fatta ignorante la serie, è fatta ignorante la serie, esatto, ma Ospetek già lo conosceva. Sì, guarda, io con Ospetek, ancora faccio fatica, mi sembra di un sogno, sono tre anni che lavoro con lui, ho iniziato sulla Dea Fortuna, poi c'è stata la tournita di Mini Vacanti, che riprenderemo a breve, perché ci ha bloccato il Covid, esatto, e abbiamo una grande tournée di cinque mesi in tutta Italia, faremo tutte le piazze, Roma, Milano, dal nord al sud, Puglia di nuovo, eccetera, e nelle Fate Ignoranti poi sono stato, insomma, felice di che mi ha chiamato anche lì, sono uno dei protagonisti, diciamo, nel film si vedevano meno perché è il personaggio che ha interpretato Filippo Nigro, quindi la coppia, io sono in coppia con Filippo Scicchitano, e insomma, sono otto puntate, devo dire, c'è grande aspettativa, grande attesa, e speriamo di... Sì, no, sicuramente sì, ma la cosa bella è che, diciamo, vent'anni fa il fatto che un uomo potesse avere, diciamo, una storia extraconiugale con un altro uomo poteva essere un po' più uno shock, mentre qui, sono passano cambiati i tempi, grazie a Dio, non è tanto il fatto che lui sia omosessuale o che abbia avuto, ma invece il fatto che lui abbia avuto una storia, un'altra vita fondamentalmente, e quindi... Perché è benegato, di fatto. Esatto, e quindi la moglie, il personaggio di... che adesso interpreterà Cristiana, Capotondi, che era della Bui, si ritrova a scoprire praticamente un altro mondo, totalmente diverso, e devo dire che Ferzan e tutti quanti abbiamo lavorato su quello, cioè a invogliare poi lei, ma anche il pubblico, a entrare nella vita di questi personaggi assurdi che stanno su questa terrazza, insomma, a Roma. Quello è... Senti, Giardo, l'altro giorno è stata qui, Maria Veraratti, che adesso sta in Passaviglie, se qualcuno lei diceva che ascolta molto la musica per, prima, per prepararsi un personaggio, ti capita mai? Oh, sì, io ce l'ho la playlist, mi metto, sì, sono... Dobbiamo sapere. Sì, no, nel senso, è una cosa, io pure sono musicopatico quasi, nel senso, la musica è una cosa che mi trasporta subito in un altro luogo, in un altro stato emotivo, e quindi... C'è la playlist, ma i neti playlist... Cioè, per i personaggi, cioè il nome dei personaggi, c'è la playlist, non so, di... Sì, è... Quando è finito il film, non devi darcela un po' Sto fiumando le playlist in base ai personaggi, va bene. Bellissimo, e in questo caso, cos'altro, te le hai fatte ignoranti? Beh, le fate ignoranti, guarda, la fortuna è che Ferzan lavora tanto con la musica, quindi abbiamo dai tango argentini, ci saranno delle scene di tango, musica turca... Cioè, ci vorrei meglio, sti capri alla ferra. Esatto. Cioè, quindi, diciamo che è lui che ci ha dato tanto, sono meno io che ho dovuto scavare per trovare, quindi è... Virzi, che cosa ci hai messo a fare lì? Ma guarda, Virzi, in realtà... No, Virzi, che si faccia... Sì, era bello il corno, no, vabbè, lì in realtà non ho lavorato in quel modo, ti dico la verità, è stato diverso perché era più entrare in... Personalmente io sono la cosa più lontana che possa essere da un, diciamo, un rampollo di una famiglia di costruttori romana, quindi lì era più... Sono su quelli abbastanza... Diciamo, esatto, è un pochino un'antitesi rispetto, esatto. Però lì è stato più che altro capire cosa muove queste persone realmente a fare delle cose che sono riprovi... L'interesse, un momento economico, un momento... Sì, esatto, e poi quando vengono ovviamente scovate, che cosa succede? Cioè, ma sono meccanismi di anche lì arrivisti, non so come dire, trovare quel lato lì del, diciamo, del personaggio oppure della natura umana nostra, cioè quella che ti spinge a fare di tutto pur di raggiungere l'obiettivo. Ma non è tutto qui, ma i netti, i razzi, i ospedek... Io vorrei avere pure i veronesi, a me non mi sembra vero a dirlo, è nato mio figlio, mi ha portato fortuna, è stato veronesi pure, è stato, non ho mai fatto un provino per lui, ho fatto un self-tape cos'era a Natale, il film l'ha scritto insieme a Pilar Fogliati, che era diventata famosa con quel famoso video a cortina metraggio dove lei faceva diversi, diciamo, dialetti romani, fantastica, veramente fantastica, e con Veronesi hanno scritto un film che parla di questo, quindi un film, se vuoi, a episodi su Roma, io... Un film, un film, un commedia. Sì, è una commedia, a tutti gli effetti, solo che è quasi uno studio antropologico delle zone di Roma, perché sì ci sono alcuni cliché che tu trovi, però non è solo su, diciamo, non resta nella superficie, cioè tu hai, devo dire, è stato scritto molto bene, poi Veronesi, io la prima volta che ci lavoravo, ha una cura, cioè capisci perché io mi ricordo i primi film, che ne so, che ne sarà di noi, dove mi ricordo la scena di Elio Germano col cane, sai... E lo vedi, e lo vedi che è uno che ha, a parte il modo di raccontare una storia, devo dire, io ho imparato tantissimo, e anche di fare commedia, cioè comunque lui ha una cura, una capacità, una sensibilità verso gli attori, è un altro regista che ama gli attori, quindi ci vai, pazzesco, veramente pazzesco. Tu sei però un po' di Ryan Reynolds italiano, cioè la fata se lo taglio così, ma magari se casco. Ma se come hai guardato in moto, no, però è vero, c'è un pochino, beh sì, i colori forse sono quelli, sì, me l'hanno detto, è capitato, è capitato, Ryan Reynolds, magari se casco, faccio un, come si chiama, quello del supereroe che fa lui, quello tutto fa solo parolacce, oddio, ah, vabbè, avete capito, eh, lo so, avete capito, vabbè, dai, sotto, eh, suggerimento la giri, la ripulsa, Deadpool, grazie, Deadpool, mamma mia, Deadpool, guarda che lui pure è un altro tipo Matthew McConaughey, cioè nel senso che erano belloni, esatto, belloni, poi lui ha trovato questa vena comica, fichissima, esatto, esatto, invece è andato per una viega, no, finito, finito, finito anche veronesi, stanno, quanto pare, non diciamolo troppo forte, però sì, però sì, io sono felicissimo, anche perché sai, ho 32 anni, adesso ho un figlio, faccio questo mestiere da 14 anni, ho avuto la fortuna di fare il medico in famiglia quando un tempo non avevi Netflix, Disney, cose, quindi non avevi tutta la possibilità di lavorare o di scelta che avevi adesso, quindi facevi Cesaroni o il medico in famiglia, infatti ci sono passati in tantissimi per quelle serie, un po' come, totale, e adesso poi ho la mia compagnia teatrale, quindi faccio teatro da sei anni, diciamo, qua a Roma, poi dipende perché con lo spettacolo di Ferzan saremo in turno in tutta Italia, però con la mia compagnia di base siamo a Roma, io avendo fatto l'Accademia in Inghilterra, facciamo degli spettacoli a trend, che è questo festival, adesso sono la ventesima edizione al Teatro Belli a Roma, di Rodolfo di Gianmarco, di Repubblica, no? E lui porta tutti i testi che non sono mai stati fatti in Italia di contemporanei inglesi, noi li traduciamo e sono le prime, poi ci è capitato di andare al piccolo Eliseo, eccetera, insomma è una bella, non è neanche palestra, è proprio occasione per confrontarsi con testi nuovi, freschi. Poi vabbè, c'è un'altra tradizione. Senti, è finito qui il capitolo presente, adesso parliamo di brano. Vai, facciamolo, cambiamo pure posizione. Parliamo, facciamo così. Vai, fallo, esatto. Allora, capitolo Marlon Brando. Allora, innanzitutto la polvorazione quando arriva? Quando è che sei stato brando, brando polvorato? Quando a 19 anni vado a studiare a Londra e poi a Oxford, mi fanno leggere il libro di Stella Adler, The Art of Acting e la prefazione era di Marlon Brando, ovviamente conoscevo brando, però ho detto, aspetta un attimo, aspetta un attimo, cioè perché Marlon Brando fa la prefazione? Cioè l'attore più grande della storia, se vuoi, insieme a, cioè un primo e un dopo brando, lì, a 19 anni e ho cominciato a rivedere i film suoi con un altro, diciamo, occhio, quindi da streetcar, viva zapata, il primo film, The Man, che meno in molti conoscono, è pazzesco, dove lui fa un lavoro, è il primo film perché l'avevano provato a portare a Hollywood, no, un sacco di volte, ma lui non ha mai voluto, assolutamente, e lui fece un lavoro lì pazzesco perché è quello che poi magari Danny Delewis fa per il mio piede sinistro, 30, 40 anni dopo, adesso non so perché era il 50, esatto, 30 anni, quasi 40 anni, e lui l'aveva già fatto in The Man, cioè lui era andato tre mesi dentro, come si dice, un ospedale, esatto, per le reduci, e nessuno sapeva che lui in realtà non era, non era, non era, come si dice quello che ha fatto De Niro poi negli anni 70, esattamente, ma comunque viene tutto da lui, nel senso che c'è quella frase che mi ha folgorato quando nel libro Selahlder dice, perché c'è una cosa che mi diceva anche il mio insegnante, si chiama De Fazio, che lui come James Dean, come Montgomery Clift venivano dalla campagna, avevano un'intelligenza, lui veniva dal Nebraska, avevano un'intelligenza che non è intellettuale, ma è fisica di terra, quindi c'era un'esercizio, pratica, pratica proprio, che però a livello attoriale ti aiuta perché ti fa fare meno pippe mentali, c'era questo esercizio che facevano in classe con Stelladere dove lei dice, adesso siete galline in un pollaio, ok, e loro ti facevano le galline, vedi 30 persone che fanno le galline, dice ok, poi a un certo punto lei fa, c'è un meteorite che sta per distruggere la terra, e tutte le galline, lui si mette immobile in mezzo alla cosa e sta fermo lì, Stelladere dice ok, fermi tutti, che cosa stai facendo, stai facendo un uovo, dice ma scusa, ma c'è un meteorite, le cose, io sono una gallina, che ne so, ed era l'unico per dire, una stupidaggine, però ti fa capire come lui ha lavorato, e poi ha trovato il connubio con Kazan, insomma i film che ha tirato fuori con Kazan da Streetcar, esatto, qual è il tuo brando preferito, tosta eh, perché per esempio insomma è anche il brando di Ultimo Tango, il cappotto di cammello, ma lì è un lavoro quasi che trascende il lavoro, esatto, il lavoro attoriale, ma lui aveva una capacità, forse anche l'ultimo tango, ma anche un po' Garibs Now, ma lo stesso il padrino, cioè la scena dove lui muore, io mi sono comprato la sceneggiatura di, diciamo c'era un box set limited edition, dove c'era la sceneggiatura che loro hanno usato, e la scena della morte, poi me le vado a studiare queste cose proprio da nerd, dove lui cade tra i pomodori, non riuscivano a scriverla, cioè era scritta ma non riuscivano a farla, e allora brando ha detto sto lì con mio nipotino, c'è Anita, c'era quelle pompe, quelle pistole tipo ad acqua o una roba così, e lui ha praticamente fatto la metafora di quello che è il suo personaggio del film, cioè se da mostro, col bambino innocente che con la cosa d'acqua lo colpisce, lui riviene da un infarto e muore, ma, cioè mi viene una pelle d'oca, nel senso per me è un attore al di fuori poi di quella che è la sua vita personale, travagliata, di problemi inavuti, esatto, però se uno lo va a studiare per me è veramente, lo è anche James Dean, lo è Montgomery Clift, Monti Clift e Marlon Brando erano, era come Messi e Ronaldo, cioè quando Montgomery Clift stava in scena a teatro, Brando l'andava a vedere e diceva beh certo, però in realtà sta facendo check-off, non penso che possa farlo così il personaggio e viceversa, però si tenevano, e quando Clift poi ha avuto l'incidente brutto, è andato in depressione, Brando l'è andato ad aiutare, ti ha detto te devi svegliare, devi riprenderti, perché sennò finisci male, come fece anche con Merlin Monroe, quindi insomma era uno che, poi a un certo punto gli sarà successo qualcosa, non so qual è il tuo Brando preferito? Io devo dirvi che a me piace molto poi andare a scavare nelle cose più o meno celebrate, io trovo la leggerezza della Contessa di Hong Kong, la Contessa di Hong Kong, c'è una leggerezza che sembra, no, 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 esatto, poi è quasi più facile pelarsi la testa, stare nell'ombra così, ma la Contessa di Hong Kong è un personaggio che non capisce, ma come anche in The Chase, quello con, eh, capito, lì anche lì sono delle cose piccole che lui fa, lui era un genio, perché scusa, Young Lions, non lo so, Giovani Leoni, il nazista che però te lo rende umano, e lui era famoso per le morti, lui riusciva a morire in modo che quando gli menano in The Chase, quando muore in The Young Lions, cioè... Nella caccia c'è la scena bellissima quando stanno, quando sciano, e poi dentro iniziano a fare il canto nazista, e lui invece rimane tutto... Sì, 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 completamente, eh, ma è, per me è, cioè veramente l'attore, come per esempio in Italia, perché poi parlando di Brando, per me una cosa simile è Volontè, cioè Gian Maria Volontè in Italia è quello che per me Brando è per l'America, Volontè è quello che in un qualche modo a livello italiano ha nulla a togliere, i Mastroianni, Gasman, però c'è un tipo di scelta di porsi nel lavoro, di come si affronta, e poi totale, cioè tutta quella roba che lui ha fatto sugli indiani, Brando, ma come anche Volontè quando faceva i film, come che ne so, su La classe operaia, o cioè... Esatto, cioè lui, sono quegli attori che a me piacciono, perché adesso è un mestiere che fanno tutti, anzi pure troppi secondo me, nel senso che non c'è uno studio, io sono 14 anni che studio, lavoro, e mi sembra che sto ancora raschiando la superficie rispetto a quello che è un potenziale che penso di poter raggiungere, spero di poter raggiungere, però era un modo diverso di approcciarsi al lavoro, cioè per cui fare film non era solo entertainment, non era solo consumo, era cultura, era anche la scelta di dire qualcosa e quindi anche i registi sceglievano attori che avevano... Politica. Esatto. Senti, chiudo, Edoardo, con una provocazione per allora. Spara. Volontè, celebrato abbastanza, secondo te? No. In Venezia parlavamo di Elio Petri, per esempio. Eh, Petri, per me, eh... Volontè dovrebbe esserci, a Roma c'è la scuola Volontè, però non è quello, è proprio l'approccio e l'accessibilità Volontè che oggi può avere un ragazzino di 16 anni, che va a quelli di 16 anni. Guarda, sicuramente va studiato di più, ma va studiato più quel cinema, cioè per capire Volontè devi vedere quei film, devi capire il contesto storico, devi capire... Non è che noi facevamo i film del neorealismo, si parla sempre all'inneorealismo in Italia, e De Sica, e tutti... Però devi raccontare... Io me lo sono andato a studiare perché è la mia passione, però per poter capire l'importanza di un Volontè. Perché Gasman o Mastroianni sono talmente iconici nel loro essere, la dolce vita, o i mattatori, sordi, manfredi... Però Volontè era invece un tipo di attore che era anche, magari, come dire, non era... Dio, come si dice, era troppo presto per il tempo, per le persone in quel periodo. Sì, per corso i tempi. Che lui ha fatto, lui ha rifiutato dei film dove poteva fare di milioni, no? Sì, sì, poi ha fatto delle ricette. Per capire quello bisogna capire il contesto storico, e quindi va celebrato di più, ma bisogna insegnare di più quello che è, secondo me, quel tipo di cinema, quei tipi di registi, Petri, Rosi, Monicelli... Cioè, esatto. Perché poi, se no, resta solo un... Non so come dire, come quando vai in un museo. Lo apprezzi, lo vedi, però non capisci veramente il valore che ha in quegli anni. Però andrebbe celebrato di più, sono assolutamente d'accordo. Anzi, lo faremo noi. Porteremo la parola di Volontè in giro. Assolutamente. Giorgio Burgatore, l'Ottorne. Grazie, ragazzi. Grazie.